Non solo il centro storico è la zona del lungomare. I provvedimenti di limitazione del traffico e di riqualificazione si estendono anche alle altre parti della città, a partire da via dell'Epomeo, dove dal 19 novembre partirà la sperimentazione di tre mesi della ZTL nella sola parte centrale della strada. I primi 280 metri interessati oggi potranno poi aumentare secondo i risultati che si saranno registrati. Ragioneremo per trovare anche la possibilità di allungarla sull'altro pezzo di via dell'Epomeo. Partiamo con questi 280 metri dove abbiamo avuto la condivisione sia delle associazioni, voglio dire, dei commercianti, ma anche la soddisfazione da parte dei residenti. È stato riorganizzato anche il contorno di via dell'Epomeo affinché con strade, spazi di sosta, garage e parcheggi, si possa poi usufruire della zona traffico limitato a piedi. Una miglioria ambientale che vuole essere un'attrattiva per quello che è storicamente uno dei principali centri commerciali naturali della città. Non è un'area pedonale, lo voglio ricordare, significa che passeranno bus, taxi e disabili naturalmente, ma che complessivamente quel tratto di strada sarà restituito di più al commercio e al passeggio, sperando in questo modo di attirare ancora più cittadini e cittadine da tutta la città per andare in quel centro commerciale naturale che è via Epomeo.